Sì, ben donati sul mio canale. In questo video sfoglieremo insieme il nuovissimo catalogo casa Avon, valido dal catalogo campagna 18 alla campagna 3, primavera 2020. Allora andiamo a vedere insieme le novità di questa primavera 2020. Qui abbiamo il copriletto matrimoniale a 85 euro con, diciamo, duple face. Abbiamo la parte più chiara e la parte più scura. Poi il copriletto letto una piazza e mezza costa 75 euro, mentre il trapuntino matrimoniale costa 130 euro. Il trapuntino una piazza e mezza matrimoniale costa 110 euro. Qui abbiamo quest'altro compreto letto matrimoniale con copriletto 130 euro. Poi il compreto letto una piazza e mezza costa 115 euro. Set di due cuscini 55 euro. Veramente molto elegante questo qua mi piace moltissimo. Qui invece abbiamo il compreto letto matrimoniale 85 euro. Anche qui abbiamo la possibilità di cambiare lato e avere una parte più scura e un'altra più chiara. Il trapuntino costa 125 euro. Come possiamo vedere qui ci sta anche la coppia di asciugamano abbinata che poi vi farò vedere più avanti quanto costa. Qua abbiamo un altro completo letto matrimoniale che costa 85 euro. Come possiamo vedere ha un pannello floreale ispirato alla pittura impressionista, sia sul bordo del lenzuolo che vicino ai cuscini, a destra e sinistra. Lo trovo molto bello per le persone che sono amanti della pittura. Anche qui abbiamo gli asciugamani coordinati. Abbiamo quest'altro compreto letto matrimoniale 79 euro, i cuscini 22 euro e la tenda 35 euro. Qui abbiamo il cuscino grigio chiaro da un lato e grigio scuro dall'altra parte. Andiamo a vedere e qui troviamo appunto come vi dicevo prima gli asciugamani. troviamo anche il tappeto che costa 22 euro, il primo set di asciugamani che ne escono tre e costa 34 euro, mentre questo costa 19 euro e l'ultimo costa 17,50. Qui invece Avon ha pensato anche ai vostri bebè. Qui troviamo l'asciugamano da bagno che costa 17 euro che sarebbe questo e poi il completo letto che comprende le lenzuola con federa, tutto made in Italy, 100% cotone, 45 euro. Allora, vediamo che ha questo disegno di impronta coordinato all'asciugamano. Guardate qua abbiamo proprio l'imprunta delle zampette e lo abbiamo anche qui sull'asciugamano, sul bordo. È veramente molto carino per i vostri bambini. poi abbiamo questo che è per i bambini un po' più grandi che dormono già nel letto singolo. Abbiamo il completo letto che costa 52 euro, mentre il set di asciugamani che vediamo qui, sempre con la stessa fantasia degli animali, costa 25 euro e poi abbiamo il set di stoviglie per bambini 21 euro. qui invece abbiamo degli accessori per la cucina, il ceppo più cinque cortelli 39 euro, il set di due padelle 37 euro, tagliere in bambù 10,50 mentre spalgi sale 11,50. Qui invece abbiamo spatola in silicone 7 euro, poi teglia portatorta con coperchio 15 euro, siringa la cucina 11,50 e tovaglia antimacchia 34 euro. mentre qui abbiamo il cestino per il pane che costa 9 euro, set 6 bicchieri 29 euro e poi abbiamo la tovaglia in mistolino 45 euro, che è veramente molto bella ed elegante. Mentre fine catalogo troviamo set di due boccali con coperchio che costano 13,50. Vi ricordo che le offerte sono valide dal catalogo campagna 18 alla campagna 3. Spero che questo video vi sia stato utile per scegliere il completo letto più adatto a voi. Noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video dove mostrerò le prossime novità Avon. Grazie.